ok il primo punto è quindi all'altezza diciamo del bottone della tasca maschile quindi fa male fa se l'ombelico sta qua quindi facciamo dove tocco fa male sì sì quindi una spanna allora fai una croce così da qui a qui e da qui a qui te lo trovi qui ma tanto se lo tocca a qualsiasi altro punto secondo punto dove c'è l'ancavatura delle minuti ma che era e qui uno se il terzo qua la nata la nata della coscia alla meta della coscia e poi qui proprio nel gemelli però devo fare il gemelli questo punto poi anche schiacciare un po questo però al punto che ne fa male questo qui di solito e poi qui sicuramente ti fa male questa zona qui poi ci sono allora c'è l'osso qui c'è solo un punto qua e l'altro punto qua questi sono punti dei punti del punto il treger il treger però questi quattro punti tutti i giorni anche se neanche senza che senza così basta fare se lo posso fare a te per il